Punta! Apri, prima, prima, qua, devi andare indietro, vai, 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 fai, non ti preoccupare, apri adesso, non aspettare che la palla, devi andare più indietro, vai, vai, apri subito, devi arrivare fino qua, non ci arrivi, vai, via, girati con le spalle, dai, fallo adesso l'apertura, indietro, piega quel polso, vedi, sentite come la racchetta, senti che così è diverso, segui me, vai, vai indietro, vai. Segui, vai, vai, falla, 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 fai l'apertura, vedi, vedi dove ti ho portato la racchetta, però l'impatto deve essere bene davanti, dai, falla, 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 se no non riesco a farti sentire, vedi, là, guarda la mano, lascia andare la palla, guardati, qua, lascia andare la pallina, tu arrivavi solo così, con questa angolazione, qua, questo, questo devi fare, cambia tutto, poi scendi giù, ok, qua, adesso io te la porto in, tu mi, aspetta, Aspetta, io mi metto qua di dietro, tu mi, guarda, senti, mi devi toccare la racchetta qua, vai, fallo, adesso, vai, quando arriva la palla colpisci, ok, un po' più giù, qua, non devi alzare il gomito, sei così, ok, aspetta, lascia, 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 torna in posizione di attesa, vai, fallo, vai, Vai, un po' più giù, via, dai, ancora, fallo, dai, un po' più giù, qua, qua, vai, davanti, però devi colpirla più avanti, vai, stai in movimento, dietro, Qua, vedi, hai sentito che hai fatto forza, ma l'hai fatta da qua, te l'ho bloccata apposta, hai capito, devi arrivare qua, non alzare troppo il gomito, vai, vai, via, ok, ancora, dietro, verso di me, vai, sotto, avanti la palla, così, dai, ancora, dietro, verso di me, qua, 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 vai, vai, così, sotto, vai, ancora, dietro, vai, Lì, davanti l'impatto, dai, 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 davanti l'impatto, dietro, vai, via, davanti l'impatto, dai, dai, ancora, dietro l'impugnatura, te la devo girare sempre io, tieni la ferma così, bene, dai, ancora, dai, 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 via, davanti, là, senti, dai, 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 guarda, vedi, dai, forza, vedi che bel colpo, lo senti, guarda il piatto corde che deve guardare dietro, vai, forza, ancora, Deve guardare dietro qua, vai, 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 giù, via, forza, là, sotto, 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 l'impugnatura, te la devo sempre girare, tienila ferma così, ferma così, piuttosto perdi il controllo, non girarla nella mano, tienila bloccata con la mano, così, tienila bloccata, l'hai girata di nuovo, via, davanti l'impatto, senti quando è la buona, senti che bel colpo solido, così, vedi, non muoverla, questo era un bel colpo, l'hai visto, solido e lungo, non lo puoi sentire, quando tu applichi un cambiamento, quando tu fai un cambiamento, un attimino di preparazione, di poi, ti senti, cioè la palla, il colpo esce bene, ma tu non sei sicuro all'impatto, cioè non ti senti a tuo agio, è così, però devi continuare a farlo, finché non ne fai centinaia e hai una buona sensazione, migliori la sensibilità, però devi stare lì, anche se la sensazione non è gradevole, però il colpo esce bene, perché sei ben posizionato, hai l'impugnatura corretta, hai visto Mattia? Bene, spero che questo consiglio possa essere utile anche a qualcuno di voi, a voi che mi seguite, se è così vi invito a mettere il like al video, ma anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, seguite anche la nostra attività, se volete partecipare al nostro stage dal vivo, potete cliccare la scheda che vedete comparire qui in alto a destra, nella descrizione del video entrate sul nostro sito web, troverete il calendario ottuno-inverno 2022, ma anche primavera 2023 prossimamente, alla prossima Roberto!